Buongiorno e benvenuti con la nostra informazione, benvenuti al TG Flash. In primo piano il maltempo. A seguito dell'allertamento arancione diramata dalla protezione civile regionale e valida per tutta la giornata odierna 9 dicembre, l'amministrazione comunale ha disposto con un'ordinanza a firma del sindaco la chiusura degli uffici ad uso scolastico pubblici e privati di ogni ordine e grado compresi gli arisigni nidi, con la possibilità di consentire l'accesso ai dirigenti scolastici e dal personale degli stessi, individuato nonché ai tecnici per assicurare le verifiche dei locali e anche degli eventuali danni alle alberature nelle aree pertinenziali ai plessi. E' quanto si legge in una nota del Comune di Napoli. Inoltre è stata disposta dai competenti uffici la chiusura dei parchi cittadini mentre i cimiteri resteranno aperti. E' prevista poi la chiusura solo degli impianti sportivi all'aperto per i quali sono previsti allenamenti sportivi indicati dall'ultimo DPCM. Voltiamo pagina, i carabinieri della compagnia Napoli-Vomero hanno identificato e denunciato marito e moglie di 43 e 47 anni già noti alle forze dell'ordine per l'aggressione di sabato scorso ai danni di un'infermiera dell'ospedale Cardarelli di Napoli. I due, al pronto soccorso dell'ospedale, insieme alla figlia 19enne che accusava dolore al petto, avevano aggredito un'infermiera accusandola di non star prestando alla ragazza le giuste attenzioni. Lamentandola a lunga attesa, marito e moglie riferiscono i carabinieri hanno colpito l'infermiera causando le contusioni ritenute guaribili in dieci giorni. I carabinieri sono risaliti all'identità della coppia grazie alla denuncia presentata dalla vittima, alle testimonianze dei presenti e alla visione delle immagini di video sorveglianza. Ringrazio i carabinieri della compagnia Napoli-Vomero per essere riusciti a individuare e affermare gli aggressori dell'infermiera del Cardarelli colpita violentemente mentre si accingeva a prestare soccorso alla figlia 19enne dei due. A scriverlo è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina social personale, riferendosi alla vergognosa aggressione subita dall'operatrice della sanità qualche giorno fa. Voglio sottolineare il fatto che entrambi sono già noti alle forze dell'ordine e dunque sono recidivi. Questa circostanza dovrà portare a una condanna esemplare per chi fa della violenza un'abitudine di vita. Ringrazio anche la stessa infermiera che ha avuto il coraggio di denunciare e tutti coloro che hanno testimoniato consentendo di risolvere il caso in pochissimo tempo. Come sempre dovrebbe accadere quando c'è collaborazione con gli inquirenti. Conclude così il consigliere regionale. E adesso il Covid sono 14.842 i nuovi casi di positività al coronavirus in Italia secondo l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute su 149.232 tamponi processati. In Italia altri 634 deceduti nelle ultime 24 ore tra i quali altri 4 medici che raggiungono in totale 237 da inizio pandemia. Sono 149.232 quindi i test effettuati e sono in aumento di oltre 38.000 rispetto a ieri secondo i dati diramati. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9% in netto calo rispetto a ieri che era del 12,3%. E adesso il Covid in Campania che sta facendo discendere la propria curva con un boom di guariti oggi per la nostra regione così come si evince dal bollettino dell'unità di crisi regionale divulgato ieri. I positivi del giorno sono 1.080 di cui 1.007 asintomatici e 73 sintomatici. I tamponi del giorno sono 12.360 per un totale da inizio pandemia pari a 167.433. I deceduti sono 35 11 nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri per un totale di deceduti pari a 2.064 persone. I guariti del giorno sono 2.575 per un totale di guariti di 66.604. Per quanto riguarda invece il report posti letto su base regionale i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 mentre quelli occupati sono 140. Cambiamo argomento Scoperto un cimitero di autorubate e bruciate ad Acerra ad annunciarlo è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che si congratula con le guardie forestali del WWF per il ritrovamento. Complimenti alle guardie ambientali del WWF che questa mattina hanno scoperto un cimitero di autorubate tra i comuni di Acerra ed Afragola nell'ambito di attività di pattugliamento e controllo del territorio. Questa è una prova evidente che servono ancora più uomini e mezzi per difendere la nostra terra da inquinatori che sono senza scrupoli. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa ha parlato ai suoi concittadini della decisione di tenere chiuse le scuole causa situazione Covid-19. Andiamo ad ascoltare le sue parole in questo servizio. Buon poveriggio Avellino, buon poveriggio Avellinesi ben trovati a questa diretta straordinaria nella quale vi parlerò chiaramente della vicenda a scuole, della mia decisione. Mi è sembrato opportuno, come al solito, parlarvi, non comunicarvi semplicemente quella che sarebbe stata la mia scelta, quella che è stata la mia scelta perché rispetta un argomento non delicato, importante come questo. E adesso il punto, il punto per quanto riguarda i dati Covid provinciali, l'ASL di Caserta ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano relativo ai contagi di coronavirus nella terra di lavoro. Nella giornata dell'Immacolata si segnalano 185 nuovi positivi a cui si aggiungono i 747 guariti e 4 deceduti. I tamponi processati sono stati 1.661 per un tasso di positività che si attesta all'11,1%. in leggera discesa rispetto alla giornata precedente. La città, che fa registrare il maggior numero di attuali positivi, è Caserta con 712, seguita da Aversa con 683 e Marcianise con 362. Nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 dicembre si è scoppiato un incendio in via Gramsci a Pignataro Maggiore verso la mezzanotte, all'ultimo piano di uno stabile di 4 livelli. Le fiamme che si sono propagate nell'appartamento hanno colpito la tenda da sole su pelletti livari, mobili d'arredo esterno, il contatore del gas e altre cose, provocando l'annerimento dell'intera facciata esterna dell'appartamento. Gli occupanti della casa, una coppia di anziani, è immediatamente scesa in strada in attesa dei soccorsi che sono prontamente arrivati. A giungere sul luogo dell'incendio sono stati volontari della protezione civile di Pignataro Maggiore e i vigili del fuoco che hanno subito messo in sicurezza l'appartamento. Adesso cambiamo argomento perché è il momento dello sport. Continua la battaglia legale del Napoli per quanto concerne la partita persa a tavolino contro la Juventus con l'ulteriore pena cestoria relativa al punto sottratto agli azzurri. Dopo che il giudice sportivo ha emanato la sentenza ed è stata anche ribadita, la società ha mosso ancora ricorto. Aurelio De Laurentiis, attraverso i propri legali venerdì scorso, ha presentato l'istanza al Collegio di Garanzia del CONI e si attende ora l'ufficialità della data dell'udienza, che dovrebbe tenersi a Roma prima di Natale, precisamente intorno a lunedì 21 dicembre oppure a martedì 22. Il verdetto arriverebbe nella medesima giornata e potrebbe portare ottime novità per quanto riguarda la classifica degli uomini di Gattuto. Gli azzurri intanto, pensando al campo, preparano la partita di giovedì sera in Europa League contro la Realzio Sedad in programma alle ore 18.55 allo stadio Diego Armando Maradona. Per gli azzurri mancherà ancora Victor Osiman, che potrebbe tornare solo a fine anno. Davanti contro gli spagnoli torna Dries Merten, mentre a centrocampo Fabio Arniz dovrebbe riprendere in mano le redini della regia. Ballottaggio Politano e Lozano per completare il tridente con Lorenzo Insigne. E con lo sport eravamo in chiusura, era la nostra ultima notizia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti